ormai avevo anche ripudiato le predizioni bugiarde e le empie fantasticherie degli astrologhi ed anche questo arrivi a te dall'intimo del mio cuore dio mio tu infatti e tu solo perché chi altro ci salva dalla morte di ogni errore se non la vita immortale la sapienza che illumina le menti bisognose senza aver bisogno di lumi e che amministra il mondo fino alle fragili foglie degli alberi tu sei venuto in soccorso della mia ostinazione con la quale mi opposi a vindiciano astuto vecchio e annebridio giovane d'anima mirabile rispondendo al primo che affermava con energia e al secondo che ripeteva frequentemente anche se con qualche incertezza che non esiste nessuna arte divinatoria bensì è il caso che viene spesso in soccorso delle congetture dell'uomo tra le molte cose che si dicono se ne dicono parecchie che poi si avverano senza che chi le dice ne abbia coscienza ma le indovina soltanto perché non tace tu dunque mi procurasti un amico solerte nel consultare gli astrologhi poco esperto in quel tipo di letteratura ma appassionato consultatore di risponsi egli era al corrente di un fatto narrato gli diceva da suo padre ma egli non immaginava quanta efficacia questo fatto avesse nel distruggere la fiducia in quell'arte costui dunque si chiamava firmino era educato nobilmente forbito nel parlare e mi consultò come l'amico più caro intorno a certe sue faccende sulle quali aveva molte speranze chiedendo il mio parere secondo le sue come si dice costellazioni io che in materia avevo già cominciato a orientarmi verso l'opinione di nebridio pur non rifiutandomi di fare qualche congettura e di manifestare i pronostici che si affacciavano la mia mente dubbiosa dissi che ormai ero quasi convinto della ridicola inutilità di quelle pratiche allora egli mi narrò di suo padre divoratore di trattati d'astrologia che aveva un amico occultore di quegli studi come e più di lui vittime della stessa curiosità i due andavano perdutamente dietro a quelle sciocchezze arrivando persino a prendere nota dell'istante dei parti degli animali che avvenivano in casa per rilevare la posizione delle stelle e raccogliere elementi di studio per quella che chiamavano scienza ebbene mi diceva di aver udito raccontare da suo padre che nel periodo in cui sua madre era incinta di lui firmino anche una domestica dell'amico di suo padre era gravida il fatto non poteva sfuggire al padrone se prendeva nota con cura anche dei parti delle sue cagne così i due amici calcolarono mediante le più scrupolose osservazioni i giorni le ore e le più piccole frazioni di ore l'uno per la moglie l'altro per la domestica capitò poi che le due donne sgravarono nello stesso momento e così furono costretti a comporre un oroscopo uguale fine più minuti particolari per entrambi neonati per il figlio l'uno per il piccolo schiavo l'altro infatti quando le due donne cominciarono ad avere le prime doglie essi si comunicarono quanto avveniva in casa propria e prepararono alcuni messaggeri da inviarsi a vicenda non appena fosse annunciata ciascuno la nascita del piccolo la comunicazione immediata era semplice per loro essendo ambe due padroni in casa loro e firmino sosteneva che i messaggeri partiti dalle due case si incontrarono a metà strada tanto che nell'uno nell'altro riuscì a notare alcuna differenza nella posizione degli astri e nelle particelle del tempo ciò nonostante firmino per essere nato in una famiglia di nobiltà locale percorreva rapidamente le strade più promettenti del mondo si arricchiva ogni giorno più e ricopriva alte cariche mentre lo schiavo che non si era potuto liberare della sua condizione continuava a servire i padroni come testimoniava firmino stesso che lo conosceva alludire il racconto di questo fatto al quale per la qualità del narratore non potevo non credere tutte le mie resistenze crollarono da prima provai a distogliere lo stesso firmino da quel morboso interesse gli feci notare come nell'esame fatto delle sue costellazioni per potergli predire la verità avrei dovuto scorgere quantomeno la posizione eminente dei genitori la nobiltà della famiglia al suo paese che era nato libero ed aveva avuto un'ottima educazione ma se quello schiavo avesse chiesto l'oroscopo in base a quelle stesse congiunzioni astrali avrei dovuto leggervi che era di famiglia umile di condizione servile e tante altre cose contrastanti con le prime e quindi che con le stesse osservazioni avrei dovuto dare risposte diverse per rispondere il vero mentre se avessi dato risposte uguali avrei risposto il falso insomma per concludere in modo certo i i responsi veritieri ricavati dall'osservazione delle costellazioni non sono frutto di una scienza ma del caso quelli sbagliati non derivano da ignoranza dell'arte ma da un inganno della sorte in seguito ho trovata la via ormai aperta cominciai a rimuginare dentro di me la faccenda per difendermi dalle obiezioni che poteva muovere qualcuno di quei pazzi che si arricchiscono con l'astrologia e che desideravo affrontare assalire ridicolizzare confutare subito avrebbero potuto insinuare che firmino mi aveva raccontato delle cose inventate o che glielo aveva raccontate il padre quindi prendere in considerazione il caso dei gemelli in generale l'uscita dell'uno dal seno materno segue quella dell'altro a un intervallo di tempo così breve che per quanti sforzi si facciano per dargli un valore nel corso naturale delle cose sfugge sempre all'osservazione dell'uomo e non può assolutamente essere rilevato nei segni dai quali l'astrologo tenterà di ricavare un pronostico veritiero ma non sarà veritiero poiché dall'esame degli stessi segni un astrologo avrebbe dovuto predire la stessa sorte per esaù e giacobbe che ebbero invece sorte diverse le predizioni sarebbero state sbagliate o se giuste avrebbero dovuto essere diverse mentre le osservazioni erano uguali se dunque avesse detto il vero non si trattava di scienza ma di puro caso in realtà sei tu signore giustissimo regolatore dell'universo che all'insaputa dei consultatori e dei consultati con un'ispirazione misteriosa fai sempre udire a chi chiede dall'abisso del tuo retto giudizio il risponso che gli conviene secondo gli occulti meriti delle anime nessun uomo ti domandi che è questo non lo domandi perché non è che un uomo non è che un uomo ti domandi che è 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 un u